Sarà una partita molto difficile contro una squadra forte, vi dico lo Spezia da anni, giocare a Spezia è sempre difficile perché in casa soprattutto sono forti, hanno grande ritmo, comunque fanno sempre squadre di qualità e vincere incontro una squadra del genere sarebbe un gran colpo, un grande colpo. Per come abbiamo fatto le ultime partite magari sull'entusiasmo sarebbe stato meglio andare avanti, però l'ultima partita ci ha dato delle indicazioni, tre cambi, tre richieste dal campo, i giocatori che hanno chiesto il cambio, perciò con l'entusiasmo potevamo ancora andare avanti ma qualche giocatore ha bisogno un po' di rifiatare, perciò è andata bene così, l'importante è come riattacchi, tutto lì. Ci siamo dati una partenza che è la Spezia e diciamo la fine del primo ciclo, prima di Capodanno, Pisa, in questo blocco bisogna tirare fuori tutto quello che possiamo, di punti, di tutto, poi quando avremo le partite ravvicinate ci saranno alcune valutazioni, quando abbiamo la settimana normale ce ne saranno altre, però credo che avremo tante partite, tante partite difficili con dispendio di energie fisica e mentali, credo che avremo bisogno di tanti giocatori. Non abbiamo mai vinto una partita fuori casa, questo è un problema, perché i campionati importanti si fanno in casa, ma anche fuori, ogni tanto qualche colpo fuori casa bisogna farlo. E poi c'è l'aspetto della continuità dei risultati, fare due o tre vittorie, dopo la partita mi avete chiesto, quando fai due vittorie di fila, tre ti metti lassù e quella è la botta forte che dai al campionato, alla classifica. E' anche un messaggio a tutti, noi ci è mancato questo, attaccare due vittorie consecutive, dobbiamo farlo, prima o poi bisogna farlo se vogliamo metterci in una classifica importante.